E' stato 278-280, stanno pulendo la cacitoia ed è il 9 febbraio 2010, sono le 4 meno un quarto. E' stato 278-280, stanno pulendo la cacitoia ed è il 9 febbraio 2010, sono le 4 meno un quarto. Notiamo questo tombino che è pure pericoloso, in marcia a piede, stiamo a Via Libertà in Grossovia Verdi. Siamo per fare pure gli atti civici 287-296. Siedi a Alpezzare Catitore, la Leuco Petra. E con questo ho finito. Grazie. Grazie. Grazie.